Materiale siliconico, senza piombo, senza aftalati, materiali sicuri per il corpo al 100%, discretezza e mistero, forma elegante e confortevole, pulizia e nessuna preoccupazione. Forma elegante per un uso sensuale, occhiello per una migliore maneggevolezza, a prova di doccia, impossibile da sentire, movimento di coito intensivo, sensazione morbida e fresca. Grazie